Alla prima di Delgrosso, il Nereto si riscatta e piega il Castelfilardo di misura con il risultato di 1-0. Decisiva la marcatura di Boito nella ripresa, che fa gioire i suoi e riporta un raggio di luce nel cammino rosso-blu. Con le immagini e il montaggio di Simone Sebastiani, passiamo agli elesti della partita. Pronti via e dal settimo Ferrini si immola e scivolata su Cardinale in volato a rete, salvando il risultato. Il Nereto si assesta e prende campo, ma la prima occasione utile arriva soltanto al diciottesimo, quando Ferrini raccoglie di testa l'invito di Cipriani spedendo largo. A metà frazione è l'episodio che potrebbe spaccare la partita. Palladini è scaltro e fra le proteste locali si conquista un penalti prezioso. Dal dischetto va Braccialetti, che incrocia debolmente favorendo la geva e l'opposizione di Diglio. Il rosso-blu allora cercano di approfittarne per due volte con Cipriani, che prima spara alto su punizione e poi è impreciso al culmine di un assolo personale. Nell'ultimo minuto della prima frazione si mette in proprio Sant'Angelo. La sua botta deviata si spegne in corner. A rientro dagli spogliatoi è tutt'altro Nereto, complice anche l'ingresso positivo di Pedalino. Sugli sviluppi di un calcio piazzato si rifugia in corner l'estremo ospite. Dal calcio d'angolo successivo, Pedalino spizza sul secondo palo, ma nessun compagno arriva all'appuntamento con la rete. Gli attacchi bianco-verdi sono flebili. La conclusione a giro di Marcelli è abbondantemente larga. Il Nereto ne approfitta e alla mezz'ora passa in vantaggio. Perfetta la sponda offensiva di Pedalino, Boito impatta con i tempi giusti ed in diagonale fulmina De Malia. Gli uomini di Delgrosso controllano bene la partita, soffrendo poco o nulla. Soltanto Daniello, su punizione, suscita qualche brivido sulla schiena di Diglio, palla di poco a lato. L'ultima emozione del match è sulla testa di Palladini. Il tira al volo è troppo centrale per sortire i pericoli. Non succede più nulla e dopo quattro minuti di recupero il direttore di Ganapoli fine alla contesa. Il Nereto chiude l'anno con un successo ricco di speranza. Per il Castelfidardo è uno stop inaspettato che non scalfisce il buon campionato disputato finora. In 48 ore non c'è nulla di cambiato. È solamente che forse la testa dei ragazzi oggi era più leggera. Forse erano consapevoli che erano troppo carichi di questi risultati negativi che abbiamo sommato in queste partite. Io oggi ho chiesto solamente di giocare una partita per amore del gioco del calcio. Con una testa sgombra, quasi sereni, quasi andare a divertirsi anche se non è così. Sì, ho chiesto proprio di essere leggeri, di giocare a calcio per amore di una partita di calcio. Perché comunque è pur sempre una partita di calcio. I problemi gravi sono altri nella vita. Quindi forse il messaggio che volevo mandare è stato percepito. La partita nella ripresa è andata come nella falsa riga del primo tempo. Secondo me abbiamo fatto bene. Abbiamo tenuto sempre il pallino nel gioco. Comunque ci abbiamo provato. Non era facilissimo in questo campo dove per controllare la palla ci vuole sempre due o tre tocchi. Si perde un tempo di giocata, anche due delle volte. Però i ragazzi hanno dato tutto. Non posso rimproverargli niente. Il rigore ci sta. Non li sbaglia chi non li tira. Quindi c'è rammarico perché volevamo far bene. Però penso che non si può cancellare con una partita tutto quello di buono che stiamo facendo fino ad adesso.